Mi vedi quei triangoli lì per terra? Guarda qua, quelli lì, tipo quelle che sembrano tipo dei rialzi? Sì, sai come si chiamano? No, brellino, erano i punti dove lavavano i panni, le lavandaglie Ah, credo che si devono essere dissestati Ma credo che li abbiano coperti perché lì ce n'è, se guardi più avanti ce n'è un altro Però generalmente non ci sono, poi magari è un po' rovinato, perché li lavavano?